In America viene commesso un furto ogni 11 secondi. Un'aggressione ogni 65 secondi. Un reato di sangue ogni 25 secondi. Un omicidio ogni 24 minuti. E 250 violenze carnale al giorno. Un'aggressione ogni 25 secondi. Un'aggressione ogni 25 secondi. Un'aggressione ogni 25 secondi. Un'aggressione ogni 25 secondi. Ma perché ammucchi la roba così? Che pizza che sei! E lasciami, sei mofrana! Chiama il cobra. Come si mette? Un casino. Si sa chi è. Uno dei tanti paranoici schifati della vita. A che punto siamo? Sal, ciao. Per me non era il caso di chiamarti. E ci tengo a dirtelo. Grazie. Vieni. Avanti! Muovetevi! Muoviti, stupida! Ti spacco la testa! Mettiti là e stai giù! Stenditi a terra! Tu non fiatare! E sta lontano da lei! Silenzio! Ehi, io ti ammazzo, sbirro! Ti massacro a tutti! Devo abbattere le strutture di questo sparco mondo! Com'è che non vedo le telecamere? Sta attento! Ho una bomba, eh! Possa fargli a pezzi! Fa venire subito la tv! Ho ristritto a tutti questi verbi! Hai capito? Così va il mondo oggi! Ma che aspetti, porco! Vado, però! Senti, amicini, faccio una strage, è chiaro? Siete un bocchio di redame e merita del peggio! Morirete tutti quanti, capito? E questa vacca qui ammazza anche lei, capito? Prima me la faccio e poi l'ammazzo! Anzi, comincia subito! Mettiti giù! Sta a sentire tu! Sei uno schifoso! Solo uno schifoso! Hai già ammazzato un po' di reso, così per questo! Ora è il momento di fare i conti! Stai attento! È una bomba questa! Ammazzo lei e faccio saltare per aria tutto il negozio! Che aspetti? Non devo mica fare la spesa? Vedi ricalmarti, amico! Vuoi parlare? E parliamo! Io vado pazzo per la conversazione! Non voglio parlare con te! Fa venire le telecamere, lo sparo! E guarda che non scherzi! Non posso farlo! Perché? Non tratto con i maniaci! Li metto al sicuro! Non sono pazzo, capisci? Sono un eroe! Hai davanti un vendicatore! Un eroe del nuovo mondo! Io! C'è la borsa! Ehi! C'è la borsa! C'è la borsa che cosa farai? C'è la borsa? C'è la borsa che chiedentvi qui? Spero che gli uccite i bambini! No! Alla prossima Se a Johnny gira e va, che strane cose fa Lui può spostare tutto col pensiero È timido e sincero, di tutti tutto sa Poiché legge nel pensiero È quasi una gira È quasi una gira Se a Johnny gira e va, che strane cose fa Lui vola con la forza del pensiero Ci riesce pur davvero, chissà poi come fa Ma che affascina te, Johnny Johnny, è quasi magia Johnny, riprova di nuovo Johnny, e come sempre riuscirai Johnny, è quasi magia Johnny, io provo e riprovo Johnny, ma non ci riesco proprio mai È quasi magia È quasi magia Quando a Johnny va, che strane cose fa Lui può spostare tutto col pensiero Ci riesce per davvero, chissà poi come fa Ma che affascina te, Johnny Johnny, è quasi magia Johnny, riprova di nuovo Johnny, e come sempre riuscirai Johnny, è quasi magia Johnny, io provo e riprovo Johnny, ma non ci riesco proprio mai Johnny, è quasi magia Johnny, riprova di nuovo È il poliziotto dei casi impossibili Tu sei il male E io sono la cura È un duro È l'uomo delle emergenze Chiama il Cobra Detestato per i suoi metodi Temibile Implacabile Io vado pazzo per la conversazione Per il ciclo I duri di Rete 4 Sylvester Stallone Cobra Sabato 21 e 20 Quando Johnny va Che strane cose fa Lui può spostare tutto col pensiero È timido e sincero Di tutti tutto sa Poiché legge nel pensiero Alla prossima Alla prossima